La cantante di Sora beccata a cena con i parenti del nuovo, affascinante, fidanzato. È una storia seria quella tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Dopo aver nascosto per mesi questo legame i due cantanti sono usciti ufficialmente allo scoperto. Prima tramite uno scambio di cuori e frasi romantiche sui social network, ora posando sorridenti e felici a cena fuori. Foto che sono apparse sul profilo Facebook di Massimo, il padre di Livio. Dunque Lady Tata ha già conosciuto la famiglia del suo nuovo fidanzato. Serate estive, ha scritto il padre di Livio Cori su Facebook, postando alcune foto che lo ritraggono in un ristorante in riva al mare in compagnia della moglie, del figlio e di Anna Tatangelo. I quattro appaiono spensierati e sereni. Anna e Livio si guardano con occhi complici e innamorati. Il sentimento che li unisce sembra più forte che mai. Così forte che Cori non ci ha pensato due volte a presentare la Tatangelo alla sua famiglia. Più Ranna Tatangelo non è stata da meno. Il figlio Andrea, nato 11 anni fa dal lungo rapporto con Gigi D'Alessio, ha già conosciuto Livio Cori. I tre hanno trascorso una spensierata vacanza in costiera amalfitana. Stando alle foto postate dai vari settimanali Livio ha instaurato subito un certo feeling con il bambino, contento di rivedere di nuovo la madre felice. Dire addio a Gigi D'Alessio non è stato semplice per Anna Tatangelo, che è stata la compagna del cantante napoletano per ben 16 anni. Negli ultimi anni, però, qualcosa si è spento e i due hanno preso strade differenti. Gigi ora aspetta il quinto figlio dalla nuova fidanzata Denise Esposito, 26 anni più giovane, mentre la Tatangelo appare serena accanto a Livio Cori.